Ecco la squadra di commissari europei riunita per presentare la risposta coordinata dell'Unione Europea alla diffusione del coronavirus. Il livello di rischio nell'Unione Europea è aumentato da moderato a moderato elevato. C'è una situazione molto complessa che richiede un'azione molto rapida e un forte coordinamento a tutti i livelli e in tutti i diversi settori, non solo a livello europeo ma ovviamente a livello nazionale e poi un approccio molto coerente, ha affermato la presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen. Il team è composto da funzionari che si occupano di salute, trasporti, gestione delle crisi frontiere ed economia. Finora nell'Unione Europea ci sono stati oltre 2.000 casi e 38 decessi per la malattia respiratoria nota come Covid-19. 3.000 persone sono morte in tutto il mondo e 89.000 l'hanno contratto. Con i voli a terra e gli eventi più importanti cancellati, l'Ocse ha avvertito che il coronavirus potrebbe ostacolare la crescita globale del 5% e causare una recessione nella zona euro. Il commissario all'economia Paolo Gentiloni ha affermato che l'Unione Europea è pronta a utilizzare tutte le opzioni politiche disponibili se e quando sarà necessario per salvaguardare la nostra crescita da questi rischi a ribasso. Al momento ogni Stato membro dell'Unione Europea ha una risposta nazionale, ma Bruxelles afferma che sta coordinando le operazioni e che si è ancora nella fase di contenimento.